L'EU domani che è il senato voterà, sì perché intanto noi riteniamo assolutamente fondamentale in questo momento mantenere l'alleanza con PD 5 Stelle come asse strategico e perché poi riteniamo che di fatto si è creata questa maggioranza molto, diciamo, poco omogenea e quindi la battaglia è all'interno di questa maggioranza. Per che cosa? Per far sì che, e queste sono le nostre priorità, che la transizione ecologica di cui molto si è parlato che è il cuore del recovery sia una vera transizione ecologica e non di facciata e quindi il nostro ruolo da questo punto di vista è fondamentale proprio per questo e contemporaneamente che con il recovery si intervenga per cambiare il modello di sviluppo del nostro Paese e soprattutto tutelare anche i lavoratori. Abbiamo scadenze, tra l'altro tra fine marzo scade il blocco dei licenziamenti, ci sono molte sofferenze sociali e noi queste sono le nostre priorità e le faremo valere all'interno di questa maggioranza e verso questo governo.